Sono contento di presentarvi questo mio ultimo progetto dal titolo Messina Arcana, un thriller dallo spondo horror che è uscito nel 2019 qui al Cinema Pollo di Messina. Gli attori sono tutti messinesi e la location dove è stato girato Messina Arcana è Santa Maria della Valle, nei pressi della Badiazza. Per Messina Arcana mi sono ispirato a uno dei capolavori del cinema horror italiano, La Casa dalle Finestre che Ridono, del maestro Pupiavati, che io ho avuto l'onore di conoscere. Subito dopo l'uscita al cinema di Messina Arcana la prima persona ad avere il TV di completo è stato proprio il maestro Pupiavati e una delle belle soddisfazioni che mi ha portato questo progetto è stata quella di ricevere la telefonata del maestro un paio di mesi dopo, dicendomi che aveva visto il mio lavoro e che era molto contento di essere stato fonte di ispirazione per questo mio progetto. Spero tanto che vi piaccia, vi abbraccio.